Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa decima puntata del podcast di Marcosbox. Anche questa registrazione è fatta un po' di fortuna perché sono ancora appiedato con il microfono e quant'altro. Spero si riesca a sentire un po' meglio della scorsa volta comunque. Come avete avuto modo di vedere su blog, il podcast è finalmente sbarcato su Spotify, quindi se avete un account su Spotify cercate il podcast di Marcosbox o magari trovate il link anche su blog e potete aggiungermi e ascoltarmi comodamente in mobilità ma anche tramite speaker tipo Alexa e cose del genere. Dicevamo, partiamo con la prima notizia della settimana, è stato annunciato il rilascio della beta di Fedora 30, tante novità di questa versione sotto il cofano. L'edizione principale vede l'arrivo di Gnome 3.32 con tutti quanti i benefici connessi a questa versione di Gnome che sono benefici di velocità e stabilità e quant'altro. Abbiamo anche l'arrivo all'interno dei repository di D-Pin Desktop Environment e Pantheon Desktop. Non sono state rilasciate le spin ufficiali di queste due nuove edizioni, non so se magari in futuro verranno rilasciate, comunque se volete provare Pantheon, se volete provare D-Pin, li trovate direttamente all'interno dei repository di Fedora, quindi è più facile installarli, perché a molti utenti questo piace, quindi fateci un test su questi due desktop environment alternativi. Notiziona della settimana è stata la chiusura, il giorno 2 aprile 2019, di Google+. Su Google+, ho trovato tanti amici, lettori che poi sono diventati amici, ho trovato anche amici di altro genere, quindi che strettamente non seguivano Marcos Box, ma seguivano me. Noi eravamo diventati amici in questi anni, secondo me è stata una delle più grandi occasioni mancate da parte di Google. Google non ci ha creduto, l'ha messo in mano a un manager che ha fatto delle scelte sbagliate, non ha voluto investire. Come al solito, Google lancia progetti, ma non sembra che in molti progetti li lancia così, tanto per sperimentare cose, ma poi non ci vuole veramente investire. Poi se li ha fatto odiare perché aveva obbligato le persone a fare un profilo Google+, aveva preinstallato l'applicazione Google+, aveva fatto in modo e in maniera per far odiare le persone. Però comunque, a mio avviso, Google+, restava uno dei migliori social network in circolazione, con il sistema delle ricerche, con il fatto che favoriva l'interazione tra persone che magari non si conoscevano bene. Su Facebook, di fatto, si va soltanto tra amici stretti e apparenti, alla fine, e si possono soltanto cazzate. Invece su Google+, si potevano fare discussioni interessanti, non soltanto per noi nerd in ambito informatico, ma di diversi argomenti. Non si andava mai nel basher out, nello schifo che c'è su Facebook, con commenti, insulti e quant'altro. Comunque, Google ha deciso di chiuderlo, Google+, è chiuso. Io avevo già eliminato, avevo smesso di postare sulla pagina di Google+, quando era stato fatto l'annuncio, o qualche mese fa, che è dell'imminente chiusura. Se volete continuare a seguirmi tramite qualche social, mi trovate su Facebook, sulla pagina Facebook ufficiale di Marcos Box. E vabbè, passiamo alle notizie più allegre, più leggere. C'è stata, in questi giorni è in corso il SUSECON, la conferenza degli sviluppatori di SUS, SUSLinux. I ragazzi di SUS ogni volta vanno a fare delle parodie musicali. Ne hanno realizzate due quest'anno. Trovate sul blog le due videoparodie, con queste canzoni famose che vengono reinterpretate in chiave SUS. sono divertentissimi, i video sono divertentissimi, i testi sono anche divertenti, e poi sono eseguiti magistralmente, quindi andatela a vedere se vi piace questo genere. Poi nel link sul post del blog ho messo anche le vecchie canzoni, che poi magari ditemi voi qual è quella che preferite di più. Ho pubblicato poi in settimana un articolo che sta, un'editoriale che sta, diciamo così, riscuotendo molto successo, che ho intitolato Linux Mint e Cinnamon, il pigiamone che indossi la sera per star comodo sul divano. Allora ho fatto una serie di riflessioni su Linux Mint, su Cinnamon, e su perché, secondo me, questa è una delle migliori distribuzioni che possono essere consigliate alle persone che si affacciano per la prima volta al mondo di Linux, ma anche a persone che magari sono stanche di rincorrere la novità del desktop environment con cambiamenti che vengono fatti a ogni race, che magari non piacciono, tipo scomparsi gli indicatori, app o menu che vengono spostati, KDE che ogni tanto va a rivoluzionare qualche menu, qualche cosa. Se uno vuole una cosa più, diciamo così, più stabile, vecchia o vecchia scuola, Linux Mint e Cinnamon, secondo me, è la migliore soluzione. Quindi sia per l'utente che si affaccia alle prime armi sul mondo Linux, che per gli utenti che sono un po' più navigati, che vogliono tornare a una dimensione più stabile. Poi sapete bene che Cinnamon può essere installato su altri desktop environment e, oltretutto, i sviluppatori di Linux Mint hanno sia un'edizione principale basata su Ubuntu e GTS, quindi stabilità, ma anche un'edizione basata su Debian, la Linux Mint Debian Edition. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo editoriale con scritto, se avete delle obiezioni da fare a proposito, commentate sul blog. Ultime due notizie della settimana. È stata rilasciata la versione ufficiale di Visual Studio Code da parte di Microsoft. La versione, o meglio, sono state rilasciate due versioni ufficiali di Visual Studio Code da parte di Microsoft nel formato Snap. Sono la versione stabile e la versione quella lì in sviluppo, la insider build, complicata, diciamo, quotidianamente o quasi con le ultime funzionalità. Questo dimostra che Microsoft crede in Canonical, crede nella serietà di Canonical, crede anche, appunto, in questo, e quindi di conseguenza crede in questo formato che è stato sviluppato da Canonical, gli Snap, per rilasciare applicazioni. Secondo me è anche una dimostrazione della bontà, in senso generale, di questo tipo di formato e del fatto che noi utenti Linux siamo rimasti per anni in una nicchia proprio perché non c'è stata mai una qualcuno che è riuscito, diciamo così, qualche versione di Linux sponsorizzata da sponsorizzata che è riuscita a imporsi. Canonical sta riuscendo piano piano ci sta mettendo anni a essere, diciamo così, una specie di standard standard di fatto nel mondo Linux e quello che propone riesce ad attirare sviluppatori di terze parti e appunto piace. Io qualche tempo fa ho fatto anche un articolo riguardo i Snap dove facevo una riflessione sul fatto che secondo me questa è la via giusta per attirare nuovi programmatori, per attirare i programmatori di terze parti nel rilasciare applicazioni in questo formato perché è più semplice diciamocelo le funzionalità di aggiornamento automatico degli Snap è un vantaggio importante non sono legati a repository o quant'altro c'è la possibilità di avere di mettere diciamo così di avere appunto diverse versioni di poter rilasciare diverse versioni di poter fornire agli utenti degli aggiornamenti senza problemi con una garanzia magari di rollback con la versione precedente sono cose che appunto e poi c'è il discorso che facevamo la scorsa volta perché è molto semplice i Snap consentono di poter installare applicazioni indipendentemente dalle versioni di pacchetti specifici presenti sulla distra quindi consentono appunto di superare il limite magari se siete su una LTS un pacchetto non è aggiornato lo Snap può può aggiornare quell'applicazione senza magari andare a inficiare quella determinata quella determinata libreria che su LTS viene mantenuta alla versione precedente diciamo così più stabile e quindi quindi secondo me è una buona cosa e questa notizia di Microsoft che ha reso disponibile il Visual Studio Code su Snap è una buona notizia io poi non so voi ma preferisco sempre il Visual Studio Code ad altre soluzioni come Atom vabbè nel mio picco perché non è che chissà cosa faccio però a me piace piace l'idea che Microsoft abbia rilasciato questa versione nel formato Snap e è comunque rilasciata anche nel formato DEB quindi se volete utilizzare la versione classica diciamo così potete farlo tranquillamente a voi la scelta è una scelta in più ecco l'ultima notizia della settimana è il rilascio della Release Candidate 1 di SuperTux Kart 0.10 è il popolare gioco di corse che ha come mascotte vari personaggi del mondo del software libero open source è divertente io ho mio nipote che ogni volta che viene vuole giocare a questo gioco perché gli piace è divertente riesce essere coinvolgente per tutti perché è facile da giocare intuitivo e poi vabbè è un bel gioco se avete giocato sapete a che cosa mi riferisco se non ci avete ancora giocato andatelo a installare immediatamente perché è molto bello dicevo è stata rilasciata la Release Candidate 1 di SuperTux Kart questo significa che la versione stabile è quasi pronta per il rilascio finale ovviamente il rilascio di questa versione è stato fatto per aiutare gli sviluppatori a trovare eventuali bug dell'ultimo minuto e quindi a risolverli la novità più importante di questa versione è che il multiplayer in rete è finalmente pronto per l'utilizzo generale quindi possiamo finalmente gogerci il multiplayer sia su rete LAN che in rete con altre persone sparse per il mondo sono stati alcuni tracciati di gioco sono stati aggiunti aggiornati sul blog trovate l'indirizzo per poter scaricare per le principali i principali sistemi perché è disponibile per Windows per Linux per Mac ma è disponibile anche la versione APK per Android quindi andate scaricatela se siete su Ubuntu e derivate volete utilizzare il PPA non l'ho scritto nel post ma comunque se cercate c'è un PPA ufficiale della versione in sviluppo quindi aggiungete quella potete installare le ultime versioni di SuperTux Cart voi potete installare anche in altri formati scegliete voi c'è l'imbarazzo della scelta bene con questa notizia ho concluso questa settimana come avete visto ho spostato l'appuntamento adesso alla domenica domenica mattina mentre sto registrando perché in settimana ho adesso alcuni impegni che non riesco a e quindi che mi impediscono di registrare la puntata durante la settimana poi mi sono accorto anche che spesso e volentieri pubblicavo la puntata la registravo il martedì a un certo orario poi mi rendevo conto che dovevo postare qualche altra notizia subito dopo e vabbè era un mezzo bordello quindi meglio magari rimettere in un giorno meno trafficato come la domenica meno trafficato per quanto riguarda le notizie e quindi e quindi ci sentiremo probabilmente se tutto va bene sempre di domenica lunga vita e prosperità a tutti quanti ci sentiamo con la prossima puntata del podcast di marcus box alla prossima settimana bye bye